Al mio amico lavoro, sì, al via 122, Giulia Ferri e Sandro, sono 4 allestate più 4 per aver superato il tempo, non so la egalità per variarie delle rosse, è così, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.